Da un lato quelli di San Giovanni, alcuni dei quali legati ai Formicola, dall'altro quelli di Fuorigrotta, tutti giovanissimi con meno di vent'anni. La violenza era nell'area da ore con quello sciame di scooter che vagava nella ZTL della Napoli Bene. Ricostruita la notte da Far West di Napoli con un bilancio pesantissimo, sei feriti, quattro a colpi di arma da fuoco, ma i feriti sono molti di più tra colpi di coltello e altre ferite. Ora si stanno mettendo in fila le testimonianze e guardando i filmati delle telecamere in zona per ricostruire volte e sequenza della rappresaglia, iniziata da quelli di San Giovanni e finita con la reazione che non ti aspetti, con i colpi di pistola esplosi da un paio di soggetti ritenuti legati al clan dell'area di Fuorigrotta e Pozzuoli. In 30 contro 10 ricostruiscono gli inquirenti, tutti armati e decisi a fare male per dimostrare che ormai comandano loro anche sui marciapiedi del by night napoletano. Ma il sindaco De Magistris precisa, la movida non c'entra, si è trattato di una scena criminale in piena regola, uno scontro tra bande. L'ordinanza ha voluto mandare dei segnali a una collettività varia che deve avere la capacità di recepirla, dove ci sono delle regole, ci sono delle sanzioni, ci sono anche degli indirizzi che in qualche modo vengono dati. Vediamo se funziona, perché quando invece c'è una scena come quella di quella notte, quella è una scena sinceramente che con la stragrande maggioranza dei frutturi della movida, non ha niente a che vedere come ne possiamo pensare di scaricarla sul commerciante, quella è una scena del crimine, cioè sono due bande che si incontrano in un luogo e si sparano.